Allora, buongiorno amici di Calciopazzo, nel ricordarvi che oggi alle 16 c'è la live per l'inizio di Calciopazzolig, ossia l'assegnazione delle 14 squadre che ieri ho pubblicato ai 14 giocatori, quindi facciamo proprio lo smucinamento, l'estrazione. E quindi vi aspetto alle 16, ma sicuramente quando inizierà la live ci sarà qualche ritardatario che casca dal pelo e dice No, ma pure io voglio partecipare. A quel punto, siccome non possiamo più ammettere persone perché ormai i calendari sono usciti, quello che possiamo fare è creare una seconda lega, una lega di serie B, per cui le persone che arrivano, se sono di un numero cospicuo, tipo almeno 10, facciamo una lega di B e poi pubblicheremo anche il calendario della lega di B. Ma il motivo per cui faccio questo video oggi è per parlare della situazione olandese, ossia il campionato che viene in pratica annullato e quindi i vari titoli che restano vacanti e quindi c'è come dire, vabbè raga, abbiamo scherzato se vediamo l'anno prossimo. Per cui presumo con partecipazioni alle coppe delle stesse squadre che sono andate quest'anno, eccetera. E' una cosa che non trovo giusta e lo dicevo facendo l'esempio dell'Italia appunto, perché poi questo va praticamente a impattare anche sulle serie minori, no? E quindi mi viene subito in mente, la prima squadra che mi è venuta a mente in Italia è il Benevento, il Benevento che già praticamente a gennaio era quasi certa, non so quanti punti di stacco, manco mi ricordo più perché tendo a dimenticare le cose, ma tipo quasi una ventina di punti sulla seconda, facciamo esempio, e tu gli vai a dire, no guarda, fammo finta da niente, abbiamo scherzato, ci vediamo l'anno prossimo. E tu pensi che i tifosi non vanno in analisi, quelli diciamo un po' più deboli, gli altri ti mettono a ferro e fuoco alla città, per cui, non lo so, io avrei adottato allora un altro sistema, perché poi comunque siamo a più, un po' più della metà del campionato, no? Perché il giro di Boa era a gennaio, mi pare quando è che l'abbiamo sospeso? A febbraio, non mi ricordo, insomma, poi ogni paese l'ha sospeso a una data sua, però diciamo era leggermente più della metà del campionato, già buono secondo me per assegnare tutti i posti che ci stanno ad assegnare, il titolo, le partecipazioni alle coppe, le promozioni e le retrocessioni, e poi diceva, vabbè, però magari c'era possibilità di recuperare per quelle che stavano in piscina, sti cazzi, purtroppo è una pandemia, è una cosa che viene dalla natura, più grossa di noi, che non possiamo avere il controllo e quindi chi, diciamo, non è stato in grado fino adesso di fare un buon campionato, sapevano del culo, questo era l'unico modo secondo me di ragionare, oppure, come stiamo facendo in Italia, attendere, lì però pure attendere, insomma, bisogna vedere fino a quando si attenderà, perché poi scavalla tutto, ho sentito parlare di una proroga fino al 2 agosto, però poi questi giocatori devono anche riposare un pochino, non dico farsi le vacanze che si fanno ogni anno, però un po' del riposo ci vuole, poi che fase riparte subito, non lo so, secondo me scavalla un po' tutto, o se pensava magari a, veramente, a divide, che poi era anche molto eccitante, a dividere il campionato in due tronconi, playoff e playout tutti insieme, e vedremo che succede, ci potranno anche essere delle sorprese importanti, non lo so, però secondo me di tutte queste soluzioni che si potevano adottare, quella che sospende il campionato e lascia tutto così come era, era la soluzione peggiore, che in Olanda hanno deciso di adottare. E volevo anche sapere il vostro pensiero in merito, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale di Calciopazzo, che anche ieri sera, dopo il video che ho fatto ieri, ha perso un altro iscritto, per cui coerentemente, come avviene dall'inizio pandemia, ogni giorno sto perdendo almeno un iscritto, se non due, per cui volevo ringraziarvi a tutti quelli che si stanno cancellando, però pregare anche gli altri, la parte sana, diciamo, della popolazione, se può invece iscriversi al canale. Vi saluto, ci vediamo tutti in live dopo, un saluto è sempre Caccio Paccio!